Soleri Fabrizio, anni 25. Vari precedenti per spaccio, usura e rapina. Mai una confessione. Soleri mi chiamano Soleri Guardi. E per tutti i lati soffreddano. Uno tosto che non si piega davanti a nessuno. Fa base a testaccio. Veloce, efficiente, mira impallibile. Un killarnato. Pare sia uno solitario, silenzioso. Ma quando parla, sa come farsi ascoltare. Siamo chiusi? Mo, sei chiuso. Non è il tipico criminale di Borgata. Non usa droga, niente prostitute. Profilo insolito. Si dice sia molto legato a suo fratello. Un tipo a posto. Tuo cazzo è il figlio. Ciao, l'ora. È stato spesso pizzicato insieme al libanese Dandy. Si sospetta un'alleanza fra bande. Forza. Che muovemo se. Alla prossima. Ok, ciao. 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 Ciao.